nuove importantissime incredibili novità anche oggi bene sì tutte le volte ce n'è una nuova e non so se è una benedizione una maledizione ma poco male insomma generiamo anche oggi un nuovo eccezionale testo senza senso cosa ci offre così in partenza questo colei e crule non me la sento e non mi voglio neanche fermare così pronti via sul primo titolo che mi offre il generatore quindi lo cambio tuttavia si zio il anche te decidere formare equo il e zi ando non che fin cavoia dire vestire affinché la il quantunque linee o queste latitante universitario e un latitante universitario è interessante ma non sono comunque soddisfatta cambia titolo ne dare gigi d'alessio non vale perché adesso abbiamo cari miei abbiamo le celebrità e abbiamo anche avevamo già gli additivi ma gli arcaismi quindi tutte le parole impronunciabili magari non impronunciabili però di dubbio senso ecco proviamo a fare subito 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 questa personalizzazione mettiamo di delle celebrità degli arcaismi proviamo a levare tutto il resto ma lasciamo gli additivi gli additivi mi piacciono sempre molto proviamo a cambiare titolo lacerante il vabbè insomma dai proprio allora lai albano tirare benché fuori vosco essendo che eliotropi eliotropin lotardi il dietro ognuna levoscolo vosco sta piacendo molto il generatore lele lele distruggere sebbene il cio distruggere lontano distruggere tardi distruggere oggi distruggere vicino molto domani forte vicino lontano piano molto davanti dietro vabbè non detto cambiamo titolo vicino perciò il odioso o mi piace proviamo a generare un testo abbiamo messo celebrità arcaismi additivi ancora non è comparso nulla però giustamente qua abbiamo nel testo per esempio ozimo ozimo l'accento sulla ozimo ozimo no ozimo variegato rocciuto brillante spiculo che cos'è trovato quantistico le bistù le bistugio antipatico sposare astuto vicino perciò il odioso o molto valentino rossi ma porca miseria abbiamo valentino rossi abbiamo francesco totti abbiamo riccardo scamarcio anna valle vabbè vabbè ok sto cominciando a sperimentare urca allora io anche i punti adesso c'è in base alla difficoltà della parola quanto è strana o difficilmente pronunciabile immagino mi alza mi abbassa i punti questo mi sembra non lo so poi mi sembra un punteggio già interessante allora allora calma e sangue freddo facciamo un random random e generiamo il testo di nuovo qui cosa abbiamo non abbiamo delle celebrità però perché non le ho segnate e io le rimetto lieve esprimere sentire raggiungere ebete sbagliare correre costui io grasso sì in effetti ho qualche chilo di troppo abbiamo i nostri belli additivi continuano continuiamo a non avere delle celebrità genera testo belè rodriguez albano appoggiare rivelare aspo fuori balaustra rap e cappello del prete storico zottico pappagallo dirigente lurido finocchi vicino perciò il odioso mi piace a me il titolo piace stavo per dire a voi piace che intanto non mi risponderete mai è lo stesso comunque mi rispondete nel prossimo video quindi è dura appoggiare rivelare aspo cioè rivelare allora vicino perciò il odioso o diligente lurido finocchi storico zottico pappagallo rap e cappello del prete crauti e stendere sedere vicino perciò il odioso vicino perciò il odioso radicchio rosso equonido belè rodriguez rodriguez belè rodriguez alquanto ecco vedi belè rodriguez è piuttosto impronunciabili però lo faremo lo faremo te la dedico si è abbassato il punteggio è perché mi sa che l'arcaismo mi vale molto ciò presentare spesso albano rovistato rendere appoggiare rivelare aspo fuori balaustra o io cerco una base tanto questo è il primo il primo tentativo questa qua whisky molto toto no allora io credo che vorrò fare questa base qua però magari aggiungo una strofa l'attuga perciò vabbè abbiamo belè rodriguez abbiamo albano chi ci ammazza mettiamo a un po d'ecco così e partiamo via l'attuga perciò il odioso vicino perciò il odioso dirigente dirigente lurido finotti storico il codico pappagallo rape caffè a me, cappello del prete, oh crauti, estendere, sedere, 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 vicino, perciò il odioso, vicino, perciò il odioso, radicchio, rosso, ecco un nido, Belen, Rodríguez, al guando, ciò presentare spesso, al mano, rovistato, rendere, appoggiare, rivelare, aspo, aspo, fuori balaustra, l'altro che perciò il odioso, l'altro che perciò il odioso, grazie.